Qatar 2022, Podcast Mondiali numero 9 La promessa di Gerda Müller Mondiale 1974, il primo in Germania, nella Germania dell'Ovest per la precisione. Nonostante i tedeschi giochino in casa e l'Olanda di Johan Cruyff la squadra strafavorita per la vittoria finale. Gli orani arrivano senza troppi problemi all'ultimo atto, trovandosi in vantaggio dopo solo un minuto di gioco, il gol della vittoria tedesca lo segnerà Gerda Müller. Fantastico cannoniere da altri tempi. Nel mono dei 15 podcast dedicati alla storia dei mondiali, che potete ascoltare sul canale Spotify del cuoio, vi raccontiamo il 1974 del bomber de Nathion, dal mancato passaggio al Barcellona. Alla promessa mantenuta con l'addio alla nazionale dopo il mondiale.